Gentili telespettatori, buona giornata. Toti, l'ex delfino di Berlusconi, che poi ha fatto quel partitello fallimentare di Cambiamo, e Luigi Brugnaro, ambizioso sindaco di Venezia che crede di diventare il nuovo Berlusconi, portano via parlamentari al centrodestra e fanno questo nuovo partito. Coraggio Italia. Ci vuol coraggio a pensare di fare un ennesimo partitello. Ce ne vuole di coraggio. E c'è chi va verso il partito di Fratelli Italia, verso il partito di Giorgia Meloni. E così all'hotel Eden di Roma, con notaio presente, è stato firmato l'atto costitutivo del partito. Il simbolo verrà ufficializzato oggi. Sarà un cerchio con il tricolore in alto e su uno sfondo fucsia il nome del nuovo soggetto politico. Coraggio Italia. Beh, insomma. Ha 25 deputati, alla Camera quindi verrà formato un gruppo autonomo, e sette senatori a Palazzo Madama. Ce ne vogliono altri tre per costituire un gruppo, quindi al Senato non riescono a diventare un partito. Ci vogliono dieci senatori, ne hanno sette. Mentre alla Camera sì, ce ne volevano venti, ne hanno venticinque. Per lo più molti provengono da Forza Italia e dagli altri ex-forzisti di Cambiamo, cioè da nuovi di Forza Italia e dai vecchi scissionisti di Cambiamo, che hanno capito che il partitello non va da nessuna parte, allora cercano di fare un qualcosa di più grosso per assicurarsi un lavoro nella prossima legislatura. Insomma, questo progetto politico sta chiamando a raccolta tutte quelle persone che dicono di buona volontà, che hanno scelto e sceglieranno di mettersi generosamente a disposizione per il futuro dell'Italia. Momento. Queste persone di buona volontà, sì, sono di buona volontà. Hanno la voglia di trovarsi un lavoro per il futuro, a disposizione per il futuro dell'Italia. Queste persone si stanno mettendo a disposizione, hanno la disposizione di cercare la continuazione del loro lavoro per il futuro, per altri cinque anni di legislatura. Però si racconta la storiella, naturalmente quando nasce un partito e quando ci sono dei politici che cambiano casacca, sempre pensano a una storiella da raccontare, a una storia di Babbo Natale da raccontare ai giornali. Perché si è andato via? Per il bene del paese, per la patria, per i principi fondamentali della carta costituzionale. Tutte balle. Cambiano per lo stipendio. Su questo l'hanno capito, l'ha capito anche quella pianta verde che scende dalla mensola, no? Vedi che dice di sì, l'ha capito anche lei. Insomma, dicono e poi aggiungono non possiamo più far finta di niente. Dobbiamo da subito sostenere le riforme, creare lavoro e rilanciare il nostro paese tutti insieme. È il momento di fare scelte coraggiose. Eh sì, la scelta coraggiosa è quella di lasciare Forza Italia dove non si ha un futuro, da quello che dicono gli altri del centrodestra, dalla Lega a Fratelli d'Italia, a Forza Italia, e gente questa che non verrebbe, che non verrà riconfermata in Forza Italia e quindi provano altre strade, provano altre aziende, perché i partiti sono come delle aziende, ti danno un posto di lavoro. Pertanto, naturalmente, come vi dicevo, devono dire la storia di Babbo Natale. Subito le riforme, creare lavoro, rilanciare il paese, tutti insieme, scelte coraggiose. Stanno cercando lo stipendio per il futuro. E così Toti, il delfino di Berlusconi, esprime il suo sostegno pubblicando sui social una foto di lui col sindaco di Venezia. È uno slogan che teneva insieme i nomi dei loro due soggetti politici. Coraggio Italia, cambiamo insieme. Avete capito? Coraggio Italia e cambiamo di Toti insieme. Insomma, dei 25 deputati, 12 provengono da Forza Italia. Quattro sono ex 5 stelle e una dalla Lega, Tiziana Piccolo. Si sommano agli otto di cambiamo, mentre due Totiani, Bergamaschi, Stefano Benigni e Alessandro Sorte, sono andati in uscita verso Fratelli d'Italia e sarebbero ancora in stand-by. Al Senato, invece, il sindaco di Venezia si ferma a quota 7. I sei di idea cambiamo del misto più la new entry, l'azzurro Sandro Biasotti. Il nuovo capogruppo alla Camera dovrebbe essere Marco Marin. Al Senato la guida dei senatori sarebbe affidata all'ex ministro Paolo Romani. All'ora di pranzo Salvini in persona ha poi smentito l'adesione della levista Piccolo al nuovo gruppo via Twitter. E così Salvini mette una foto di lui con l'onorevole Tiziana Piccolo e dice così. La deputata Tiziana Piccolo era, è e sarà una valida e stimata rappresentante della Lega. L'obiettivo comune è quello di continuare a lavorare nell'interesse dei cittadini della provincia di Bolzano, dell'Alto Adige e di tutta Italia. E poi scopriamo che in questo partito ci sarà anche Rizzone. Ve lo ricordate quello che si prese il bonus Covid? Ve lo ricordate? L'ex 5 Stelle adesso aderisce a Coraggio Italia, ci vuole un bel coraggio. Ecco, ve lo ricordate l'onorevole Marco Rizzone, Movimento 5 Stelle, che aveva preso il bonus, quello per le partite IVA. Vi ricordate, no? Eh, quando si parla di soldi, amici miei. E così un ex 5 Stelle aderisce al partito di Luigi Brugnaro e Marco Rizzone. Le cronache lo ricordano per aver ottenuto il bonus partite IVA, anche per tal ragione è stato espulso dal Movimento, ma poi ne venne chiesto il soccorso nel tentativo di costruire il governo Conte III. E questa volta, sotto l'insegna della sigla di Bruno Tabacci, il centro democratico. Adesso un'altra avventura sotto un tetto nuovo, nella galassia del centro-destra. Rizzone è uno dei parlamentari che approda il soggetto politico ideato dal sindaco di Venezia e da Giovanni Toti. Sono tutti in cerca di un futuro economico, perché finita questa legislatura, col taglio del 30% dei seggi e con i partiti che salgono e scendono, i posti disponibili non sono più quelli di prima. E quindi tutti stanno cercando di capire, e questa è l'unica cosa che gli interessa, altro che le riforme per gli italiani, ma quali riforme? A questi qua, a questi 945 politici, dal primo all'ultimo, stanno pensando a come essere rieletti per continuare a prendere lo stipendio. Non tutti pensano a questo, perché i politici storici di ogni partito sanno che saranno rieletti, nel senso i big di ogni partito sono sicuri che saranno rieletti, mentre quelli meno conosciuti o gli sconosciuti dicono, beh, è qua? Che faranno? Mi rieleggeranno? Dovrò andarmi a cercare un altro lavoro? Da 1500 euro al mese, non più da 13.000? Dove lavorerò 8 ore al giorno, mentre qui lavoro forse 5 minuti al giorno? Se è troppo? Grazie a tutti quanti e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video.